Musica 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 La sensazione è spaventata. E' questo super show. Capito? Non più poi gli occhi. Come va? Non è vero. Ora parlare di un altro segreto interno, il clima dell'acqua. L'acqua non è solo il elemento liquido che si trattiamo, ma possiamo analogicamente guardare nel nostro corpo e sentire, sentire in qualche modo, come l'acqua. Sensation, inner sensation. Se mettiamo la propria attenzione nel nostro corpo e mettiamo più attenzione alla nostra sensazione fisica, la sensazione interna non è la pressione ma è l'interocezione, la sensazione interna del nostro corpo. In realtà questa sensazione interna possiamo avere solo se rilassiamo un pochino, rilassiamo, quindi ancora l'acqua, rilassiamo, e attiviamo un modo diverso nella nostra mente, ma non solo nella nostra mente, anche nel nostro corpo. Scientificamente potremmo dire che stiamo attivando il nostro sistema simpatico, e mentre lo facciamo, rilassiamo un pochino, il capillare si espanse, e in qualche modo le nostre mani diventano calmi. Questo è un elemento clave nel magnetismo, ma questo clave è anche importante nella tua vita. Praticare la rilassazione. Praticare la rilassazione per sentire le sensazioni interne. mentre lo facciamo, cambierà il tuo modo cerebrale, e arriverà in un altro modo cerebrale. Questo permette di essere più caldo, e questo è anche un passaggio per la self-hypnosis e per cambiare. Grazie. 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 Grazie.